Innalzamento della pressione fiscale, lotta all'evasione, riconoscimento dei debiti vendita dei beni comunali e recupero dei crediti. L'assessore al bilancio, Angelina Spagnolo, anticipa i cinque punti attraverso i quali l'amministrazione di Piazza del Popolo punta a risanare le casse del comune sull'orlo del Baratro per effetto di un passivo che supera i 13 milioni e mezzo di euro. Stamattina, in Commissione Finanze, la maggioranza ha approvato i regolamenti per la rimodulazione di IRPE Fettasi. La prima imposta passerà dallo 0,5% allo 0,7% con una franchigia estesa anche ai redditi inferiori ai 15 mila euro annui. La seconda, che invece prevede un tetto massimo del 3,5%, è stata fissata al 2,5%. Per l'assessore si tratta di una chiara risposta a chi, soprattutto nell'opposizione, chiedeva la dichiarazione di predissesto che avrebbe portato al massimo la tassazione e precluso la possibilità di accedere ai fondi europei. Stamattina c'è stata la Commissione Bilancio nella quale sono state esposte le decisioni di questa amministrazione in merito alle aliquote Tasi e all'addizionale IRPEF. Partiamo dall'addizionale IRPEF semplicemente perché è più breve. L'addizionale IRPEF ha come valore massimo lo 0,9%, come valore corrente attuato fino all'anno scorso lo 0,5%. Noi porteremo l'aliquota a 0,7%, ma mentre prima con lo 0,5% c'era una franchigia di 7 mila euro, questa amministrazione ha inteso aumentare l'aliquota a 15 mila euro. Ci sono stati due passaggi, uno che prevedeva l'esenzione di questa maggiorazione a 13 mila perché 13 mila sono i redditi dei pensionati annui. Ma poiché è legata agli scaglioni dell'IRPEF abbiamo preferito alla fine aumentare la franchigia a 15 mila perché così mettiamo dentro anche i percettori di monoreddito nel caso di famiglie che hanno un'unica entrata. Perché scegliere questo aumento? Perché è opportuno per due ragioni, uno di tipo interno e uno di tipo esterno, di tipo interno perché voi sapete che le entrate comunali negli ultimi anni si sono via via ridotte del 40%, quindi a fronte di le entrate ridotte sono necessari due provvedimenti alternativi o contemporanei. Il primo provvedimento è quello di aumentare le entrate, il secondo è quello di contrarre le spese. Lo impone l'etica, lo impone il governo avendoci già penalizzato sulle entrate, lo impone una sana gestione del bilancio. Ora si andranno a colpire i soliti noti ma la Corte dei Conti ci ha suggerito di aumentare le aliquote al massimo. Noi continuiamo a perseguire una strada dell'attenzione ma non condividiamo la decisione di portare al massimo perché sappiamo il grado di indigenza dei comuni del sud e conosciamo per bene lo stato di preoccupazione che hanno le famiglie della nostra città. Tuttavia se delle due luna o bere o affogare c'è un'attenzione anche di terzi e autorevoli perché un magistrato contabile fa il suo dovere e quindi dobbiamo adempiere a questi compiti ma il problema vero è che l'attenzione si è resa manifesta da novembre 2013 in poi, cioè da quando questa amministrazione ha deciso di promuovere l'azione di far venire fuori l'entità e la consistenza del debito. È chiaro che il magistrato contabile si pone la domanda ma se ora voi mi dite che ci sono oltre 13 milioni e mezzo di debiti da aggiungere all'ultima tranche del debito galasso di 1 milione e 250 per il quale i galasso hanno chiesto anche gli interessi e ci chiedono 1 milione e 550, noi dovremo rispondere con un piano di rientro ovviamente. Io già fin dall'inizio dell'insediamento avevo attivato le politiche fiscali necessarie e le politiche di bilancio necessarie per fronteggiare i problemi. Il fatto è che da un lato l'aggressione all'evasione che ad oggi ci ha portato un accertato di 2 milioni di euro, di oltre 2 milioni di euro, ma voi sapete che l'accertato non significano soldi in cassa, significa che il cittadino può fare istanza presso l'agenzia delle entrate, può rallentare l'esito del pagamento e quindi noi questi accertamenti riguardano l'ICI 2010 e parte del 2011, ci sono ancora accertamenti da fare che riguardano l'IMU 2012, la Tarsu, la Tares. Quindi c'è una simmetria tra il momento in cui comincia l'azione e il momento in cui si avranno i risultati. Io penso che altri risultati li avremo anche l'anno prossimo, ma oggi io devo rispondere, per rispondere oggi con certezza alla decisione di questa amministrazione di pagare i debiti, prima di tutto riconoscerli, tutti, 13 milioni e mezzo da riconoscere, dovremo portare in, cosa che faremo, una serie di transazioni che da un lato aggrediscono i debitori principali, cioè quelli che noi consideriamo principali semplicemente perché di più grande importo è di più vecchia data. Quindi avremo delle transazioni con ieri di Sandulli che ci abbasseranno attraverso appunto questa transazione l'entità dell'importo e dilazioneranno in tre anni i pagamenti. Del debito galasso, quello degli ieri di Sandulli è appostato in bilancio con 4 milioni e 8, quello del secondo debito galasso è pari a 2 milioni e mezzo, quindi più altre transazioni ci consentiranno di rispondere alla Corte dei Conti e io spero che queste attività determinino maggiore credibilità nei confronti di questo comune. In definitiva la strategia non contempla l'inalzamento delle tasse al massimo ma ce la farete ugualmente senza alzare le tasse al massimo e soprattutto che risponde lei a chi chiede le sue dimissioni proprio per non aver l'accusa e messo in campo una strategia forte? Io non so bene cosa significhi una strategia forte, la strategia più forte è il dissesto e il predissesto, la strategia forte se si intende per strategia forte è quella di non seguire soltanto la via dell'attenzione ma seguire la via della, come dire, quella di gettare la spugna e di far patire a questa città per 10 anni le aliquote al massimo, di non poter accedere ai fondi europei, io posso dire che quella è una strategia forte e la strategia che persegue l'ente è quella di essere cauti ma decisi nell'azione, essere cauti e decisi lo dirà il tempo se è forte o no. O bere o affogare dunque questo è in definitiva il ragionamento di piazza del popolo che conta di farcela anche senza soluzioni estreme per questo spagnolo non lesina una dura stoccata a quanti anche nella maggioranza chiedono a gran voce le sue dimissioni. Il tempo, dice, stabilirà chi aveva ragione e chi invece aveva torto. Lo dovete chiedere a chi lo chiede quali sono le argomentazioni per le quali io dovrei andare via. Io ho avuto la fiducia dal sindaco, andrò via, nel momento ho già, anzi in quello stesso giorno detto al sindaco ti rimetto il mandato, ma il sindaco ha ritenuto di fare diversamente. Ora, se c'è un'impostazione sbagliata saranno i fatti a dimostrarla, non le parole di A o di B. Al prossimo episodio Al prossimo episodio